La tredicesima edizione delle Fonti Awards, che si è tenuta in una delle location di maggior fascino e prestigio a Milano, ha consacrato l'eccellenza del mondo imprenditoriale, legale e professionale, che si sono distinte per la rilevanza delle operazioni seguite, l'alta specializzazione e gli ambiziosi progetti messi in campo, senza dimenticare l'innovazione e la leadership. La premiazione è stata condotta da Yancor di Le Fonti TV, l'emittente punto di riferimento nel panorama dell'informazione finanziaria, economica e giuridica, che vanta una community fidelizzata di oltre 10 milioni di persone in oltre 125 paesi. Allora, cambiamo categoria, andiamo sulla categoria finance e andiamo a premiare l'avvocato dell'anno Capital Market. Il vincitore di questo premio è l'avvocato Gianluigi Serafini, LS Lexius Sinacta, per essere uno tra gli avvocati più quotati a livello nazionale nel settore del Capital Market. Per aver seguito numerose quotazioni di successo e aver contribuito anche con numerosa convenistica a supportare Borsa Italiana nell'aiutare le piccole e medie imprese ad avvicinarsi ai mercati finanziari, creando una nuova cultura di impresa. Wow! Eh sì, eh beh! Un ottimo risultato, grazie, grazie avvocato, grazie mille. Siamo in compagnia dell'avvocato Gianluigi Serafini, partner di LS Lexius Sinacta. Benvenuto avvocato. Buongiorno, grazie. Avvocato, oggi si parla molto di mercato dei capitali, di quotazioni. Ecco, le chiedo perché per una PMI può essere interessante e anche vantaggioso, insomma, quotarsi nel mercato dei capitali oggi? Il percorso di quotazione sul mercato italiano non è mai stato maturo, nel senso che abbiamo, le nostre aziende sono spesso aziende familiari che hanno avuto paura di introdursi nel mercato dei capitali. Borsa italiana, partendo dal mercato AIM e oggi col mercato AGM, ha invece introdotto una modalità dedicata alla crescita delle piccole e medie imprese sicuramente vincente. Il fatto che oggi sul mercato ci siano circa 240 società quotate sul mercato AGM è un fatto estremamente significativo. Quali sono i vantaggi? Reperire intanto capitali da dedicare alla crescita dell'impresa per linee esterne, cioè acquisendo ulteriori aziende e quindi dal punto di vista dimensionale la possibilità di stare sul mercato. Un altro vantaggio è quello di essere più attrattivi nei confronti dei propri stakeholders e quindi poter attrarre anche competenze e professionalità, cosa che non è secondaria per le piccole e medie imprese. Un ulteriore elemento è quello della grande visibilità che oggi la quotazione concede alle aziende e non da ultimo il fatto di migliorare tutti i loro rating sotto il profilo finanziario. Ma il percorso anche di quotazione è molto utile per risolvere ad esempio problemi di passaggio generazionale. In molti casi noi abbiamo aziende che sono nate negli anni 60, negli anni 70, che oggi sono guidate da imprenditori che stanno avviando i loro figli all'interno dell'impresa, figli che magari hanno fatto formazione, hanno avuto esperienze manageriali in altre imprese e che magari sono un po' più dinamici rispetto ai genitori e vedono le criticità del mercato con la necessità comunque di rafforzare l'impresa e farla crescere e renderla competitiva sui mercati internazionali. Il percorso di quotazione semplifica anche il passaggio generazionale, perché ad esempio nel caso tipico di imprenditore con due o più figli in cui solo uno abbia l'interesse a proseguire nell'attività di impresa è un modo col quale si dà un valore certo all'impresa, la possibilità al figlio che vuole continuare nella gestione e agli altri figli eventualmente di liquidare nel tempo la propria partecipazione a valore di mercato perché ovviamente la quotazione comporta che le azioni entrano su un mercato libero e quindi possono essere ovviamente cedute. È una grossa possibilità di crescita alternativa a quella dei fondi di investimento perché in genere quando ci si avvicina al capitale esterno con un fondo l'imprenditore deve aver già deciso che cosa fare dopo cioè in genere il fondo a 4-5 anni esce per cui lo sviluppo molte volte è la vendita dell'impresa se invece si vuole continuare e far sì che l'impresa continui nel tempo all'interno magari della famiglia con la famiglia che possa mantenere il controllo la quotazione è sicuramente uno strumento particolarmente utile e i risultati conseguiti in questo periodo sono molto interessanti anche perché abbiamo visto che il valore dei titoli sul mercato EGM anche nei momenti di crisi ha tenuto rispetto al mercato principale. Ecco certe volte un po' c'è l'idea che invece la quotazione sia piuttosto complessa e anche costosa, ecco le chiedo se è davvero poi così. L'operazione è un'operazione importante per l'azienda e ha delle complessità ma soprattutto complessità organizzative per l'azienda, cioè l'azienda si deve dotare, deve crescere, deve avere comunque un minimo di struttura organizzativa ma è una crescita che è un modello organizzativo che deve andare a assumere che l'azienda per stare sul mercato avrebbe comunque dovuto fare perché altrimenti rischia di perdere delle opportunità. I costi sono costi più che ragionevoli, a volte ci sono campagne pubblicitarie meno efficienti che costano molto più di una quotazione. Si aggiunga che peraltro da qualche anno e quest'anno per il 2023 è stato confermato ma penso che continuerà ad essere confermato, esiste un credito di imposta pari al 50% dei costi sostenuti qualora si tratti di piccole e medie imprese fino a 500 mila euro. Quindi sostanzialmente oggi una quotazione ha dei prezzi estremamente ridotti rispetto ai risultati che va a conseguire. Le difficoltà sono di impatto organizzativo sull'azienda ma in realtà non sono difficoltà ma sono un'opportunità perché tutto quello che la società deve fare per acquotarsi vuol dire creare una struttura organizzativa e gestionale che comunque le consente di implementare il proprio valore nel tempo. Quindi non è un costo ma è un investimento. Lei sappiamo insomma che ha svolto diverse operazioni di capital market durante la sua lunga carriera. Ecco ce ne vuole raccontare così in sintesi qualcuna particolarmente significativa? Ma guardi io mi occupo di capital market dal 2002 e diciamo la nostra esperienza è anche un po' particolare perché il nostro dipartimento di capital market è sulla sede di Bologna ed è l'unico dipartimento di capital market diciamo non strutturato su uno studio milanese per l'area legale. Abbiamo fatto questo sforzo per tenere vicino al cuore pulsante della nostra piccola media impresa una realtà organizzata che ormai da più di vent'anni regolarmente fa operazioni sul mercato. Le operazioni più importanti, più significative o quelle che ricordo con più affetto ma ogni quotazione lascia a noi professionisti l'affetto perché quando si vede l'imprenditore che suona la campanella è comunque un momento comunque emozionante nella vita di un'impresa e anche del professionista. Creerei ingiustizia a fare nomi rispetto alle oltre 40 operazioni che abbiamo seguito sul mercato. Ecco sicuramente quella più nota che abbiamo fatto è stata la quotazione del gruppo ERA nel 2002 che fu un'operazione una delle più complesse fatte sul mercato italiano perché era il frutto di un'operazione di fusione e scissione di 17 società contemporaneamente che furono portate in quotazione. Abbiamo quotato l'aeroporto di Bologna sul mercato regolamentato e poi siamo stati leader nel mercato espandi perché è stato un mercato regolamentato che Borsa Italiana aveva inventato all'inizio degli anni 2000 prima che nascesse AIM Italia e poi diciamo dal momento dell'AIM e poi EGM abbiamo consolidato una nostra presenza stabile diciamo tutti gli anni con operazioni di quotazione. L'unica e la più recente è stata quella del gruppo Rayway e anche questa con un elemento importante perché per una delle prime quotazioni in cui abbiamo visto numerosi investitori anche esteri istituzionali che hanno sottoscritto sul mercato EGM e anche questo è uno degli effetti che vediamo grazie al passaggio dal sistema AIM quindi dalla Borsa di Londra a Euronext perché sul passaggio della piattaforma Euronext gli investitori istituzionali esteri sono sicuramente più presenti e hanno più attenzione a questa categoria di mercato. Ecco quanto è importante poi il team di professionisti in un processo di quotazione? Il team dei professionisti in un processo di quotazione è fondamentale. Io non sarei qui a parlare se il team che abbiamo costruito nel tempo non mi avesse accompagnato e lavorasse con me costantemente. Noi abbiamo un team di circa 5-6 persone dedicato a questo diciamo dipartimento che è un dipartimento che in qualche modo è autonomo ma è molto collegato alla struttura del dipartimento corporate dello studio ma un modo di valutare, crescere assieme, confrontarci con tutti gli altri partner che sono all'interno del processo di quotazione. La parte legale è una parte complessa, la si può vivere in molti modi. Noi possiamo essere i miei esecutori di una due diligence legale della redazione di un documento di ammissione o possiamo avere un ruolo proattivo di regia nel senso che essendo quelli che dobbiamo completare il documento di ammissione che è quello con cui la società va in borsa siamo gli attori che ricepiamo un po' tutte le parti dei vari player la società di revisione, l'advisor finanziario, la società Lega. La regia fondamentale è fatta da Lega che è l'istituzione che porta e accompagna in borsa la società però sicuramente il legale nei rapporti con l'azienda è quello che in qualche modo ha un po' la cassetta degli attrezzi soprattutto nelle piccole e medie imprese per sistemare un po' tutti quei pezzi della macchina dell'azienda che non sono ancora pronti e che in qualche modo lavorandoci sopra dobbiamo aiutarlo a crescere. Nel contempo dobbiamo molte volte fare anche una formazione culturale per l'imprenditore perché magari è un bravissimo imprenditore ma affrontare il mercato, gli investitori e sapere cosa gli succede domani non è così scontato quindi i mesi con cui si lavora servono anche a creare diciamo questo percorso con l'imprenditore di accompagnamento a volte anche psicologico perché poi alla fine c'è una componente psicologica nel nostro lavoro che non è secondaria. Grazie 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 Grazie